Stasera il debutto di Bianca Berlinguer su Rete4. Il programma si chiama è sempre Carta Bianca. La giornalista, dopo 34 anni alla RAI, passa a Mediaset. Il primo ospite di stasera sarà proprio Giuseppe Conte e naturalmente il suo amico che non può mancare, Mauro Corona. Si parlerà di politica, di attualità, di problemi sociali e tanto altro. Stasera alle 21.25.